Oh, mi dica! Ciao! Ciao, finalmente! Che si sentono questi due esseri umani? Che produrranno l'alimentazione di una forte chiara. E per tutti, bello! Oh, e vai! Iiiiiii! Ok Abbiamo qua i due sposini che è un obiettivo importante. Io ci sono. Allora, purtroppo, mi dispiace se... Mi dispiace se sentire la voce rientrare più volte, ma... Non riuscivo a sentare la sensibilità del microfono. La senti rientrare? Sì. E cos'è la gente? No, forse no. Sì. Eh, no, rimbalza la voce tra i due microfoni, quindi... Bello! Oggis, sta arrivando una roba gigante cos'è? Un tipo con un braccio grosso. Com'è la vita da Massimodio? Bella, come prima. No, stiamo bene. E noi viviamo già insieme da un anno, quindi la vita è quella, bella, ci piace comunque. Sì, però, in previsione del futuro, della vita, tutti i giorni. E poi vengono a me che sono un nerd. Questi due esseri umani comprivano nella stessa casa e con buc'è il nostro nerd. RELOADING! Esatto. E io voglio una motosega. È troppo bello avere una motosega. Siamo solo animali. No, ma non per il marino. Non c'è ne va. Sì, troppo. Sì, troppo. Per te che c'è? Non c'è subito. È bella, non ti chiamata. Eh, però... Fa il culo. Sì, è be... Bella, però, come lancia granate, rischi di fare un casino in poco a meno. Ma tanto non faccio niente se ammazzo col... Cioè, se coltisco voi non succede niente. Sì che succede. E lui mi ha detto che non succedeva niente. Io sparavo agli impostato. Oddio, mi sa che non sto capendo un cazzo. Cos'è che ho in mano, Mari? Guarda. Guarda. Sì, guarda. Oh, would you mind not shoot me, please? Come non succede niente se mi fa il... La motosega. C'è il tuo camico e mi ammazza in due secondi. Reload! Non lo sapevo. Non hai notato che se tu mi fai... Mi fai male. No, non l'avevo notato. Ah, è vero cazzo, qualcuno mi ha sparato. Non lo sapevo però. Non fare attenzione al tuo camico. Questa è un'altra pererogativa importante. Ah, no. Non lo sapevo assolutamente. Infatti prima andavo con la motosega tranquilla anche contro di voi. Infatti, prima mi sono ritrovato da 90 anni. Faccio ragazzi, un charger mi ha preso. Ma dov'è? Dove stai, amore? Ma stai ancora lì? Morto, amore? Ah, come on. Sì, grazie, è un'attività bizzata. Ah, dico, il cattivone. Sì, è morto, morto. Ma cosa state facendo voi? State salendo o no? Oh, ragazzi, vi aspetto qua, uscendo giù. Ce la fate? Un secondo, vero? Eh no, un secondo me c'avevo i mostri. Arriva, ma... Non lo sapevo, non lo sapevo, ma andiamo. Ok, 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 posso farlo. Ah, non è mio. Cazzo, io ho finito le munizioni, che merda! Non è un ascia, un'arma su qualcosa. Ah, non mi diverto con l'ascia. Una catana? Non lo sapevo, non lo sapevo. hai ragione mare finchè da qui vengono get out of me oh get out of me get out of me oh till you thought i'm later i thought i was gonna not a lot gotta reload we gotta hunter why the hell you guys keep shooting me reloading through the window no e poi da lì si scatena ho fatto una bomba? ah e qua che siamo cazzo non ho neanche munizioni vieni 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 ma non cazzo marie figa da dietro da dietro donna marie basta marie c'ha fatto povero non c'era carletto nell'interno aiuto ragazzi qua non mi sta beccando nessuno sono nell'angolo era tattica andiamo? io ragazzi non piace di cadavere guarda qua dentro oddio attenti guarda ciao dai ciao Ah ok